Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e iniziare a pregare, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Dopo tanto tempo e tantissime richieste, finalmente torniamo a parlare di culti. So che la rubrica dei culti è una delle vostre preferite, per cui nel tempo cercherò di trattare ogni singolo caso macabro legato alle sette religiose. E fidatevi ragazzi, ce ne sono tanti, troppi. Ma questo in particolare è davvero sconvolgente e dimostra proprio quanto sia pericoloso entrare in alcune sette. Quella di cui parleremo oggi è riuscita a convincere tante persone di alcune cose davvero assurde ragazzi, e senza senso. Quindi adesso cerchiamo di capire come e perché. Detto questo, come sempre, prima di cominciare vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video, e usando il codice Andrew avete anche delle calze a scelta in omaggio. Va che figa sta maglietta. Vabbè. Scusate se mi dilungo sempre più del dovuto, cominciamo subito. Per parlare del culto di oggi e capire per bene la sua storia, dobbiamo prima presentare alcune persone e dare un po' di contesto. Ah, quasi dimenticavo, se siete sensibili a temi come manipolazione, suicidio e violenza, saltate questo video e ci vediamo al prossimo senza problemi. Per chi è rimasto, cominciamo con le presentazioni. Lui è Marshall Applewhite, nato in Texas nel 1931. Marshall riceve un'educazione molto rigida sulla religione. Suo padre, infatti, era un pastore presbiteriano, ovvero una forma di organizzazione della chiesa che applica il modello del Nuovo Testamento. Non penso di essermi spiegato, quindi ecco la definizione esatta, stoppate il video e... Ok. Dicevo che appunto Marshall ha ricevuto un'educazione molto religiosa e severa. Nonostante questo, tutto sommato, nella sua infanzia l'amore e l'affetto non è mai mancato. Però pensate che per gran parte di questo periodo il padre e la madre si trasferivano e traslocavano di continuo, portandosi dietro i figli ovviamente, tra cui Marshall. Praticamente si spostavano di paese in paese e in ognuno di questi il padre fondava e costruiva una sua chiesa. Cioè a quanto pare in quanto pastore presbiteriano poteva creare chiese presbiteriane. Non ho davvero idea di come funzioni e non ho trovato molte informazioni. Ma posso dirvi che in inglese questa figura la chiamano minister, ministro. Quindi ecco, aveva questo potere di fondare nuove chiese e lo faceva eccome. Per anni quindi tutta la famiglia si è spostata in vari paesi del sud del Texas. E non era una famiglia piccolissima. Era infatti composta dal padre, Marshall Herff Applewhite Senior, dalla madre Louise, poi due figlie, una di nome Louise, che fantasia, e l'altra di cui non si conosce il nome. E infine due figli. Uno era il nostro Marshall e l'altro invece, stando alle dichiarazioni che sua sorella Louise fece al New York Times nel 97, aveva dei gravi problemi mentali. Quindi insomma, abbiamo capito una famiglia abbastanza numerosa e anche leggermente problematica. Perché ricordate che negli anni 30 del 900 la malattia mentale non era proprio il massimo, anzi. Ma torniamo a Marshall e alla sua storia. L'adolescente frequenta il Corpus Christi High School. Te pareva. E in seguito l'Austin College. Durante il college un suo compagno lo descrive come una persona davvero rispettata da tutti. Sapeva intrattenere, sapeva parlare con gli altri e non faceva affatto fatica ad integrarsi. Anzi, aveva una vera e propria personalità magnetica. Era sì religioso, ma non cercava mai di indottrinare chi avesse un credo diverso dal suo. Aveva un atteggiamento estroverso. Ed era davvero intelligente e popolare. Queste sono le parole che ha usato appunto il suo compagno di college per descriverlo. E ve le sto raccontando perché di solito i protagonisti dei miei video non hanno mai queste caratteristiche. Sono sempre tutti emarginati, con comportamenti antisociali e di sicuro problematici. Ma lui no. Lui sembrava assolutamente e totalmente normale. Almeno per ora. Nel 1952 si laurea in filosofia e subito dopo decide di iscriversi ad un seminario teologico dell'Unione Presbiteriana. Ed è proprio qui che incontra Ann Pierce. I due si piacciono fin da subito e almeno in teoria si innamorano. Poco dopo si sposano anche e insieme hanno due figli. Nel 1954 poi si arruola nell'esercito degli Stati Uniti dove presta servizio per due anni. Dopodiché si iscrive all'Università del Colorado per inseguire la sua vera passione. Infatti proprio lì consegue un master in musica. Inizia quindi ad insegnare musica all'Università dell'Alabama. E qui succede un casino. Viene letteralmente cacciato perché si scopre che aveva abusato se**almente di uno studente. Un ragazzo. Per questo motivo sua moglie chiede il divorzio ovviamente e i due perdono i contatti. Fino a quel momento nessuno avrebbe mai pensato che Marshall potesse fare una cosa simile. Eppure siamo solo all'inizio. Dopo essere stato cacciato dall'Università dell'Alabama Marshall si trasferisce a Houston e nel 1965 inizia ad insegnare in un'altra università, quella di St. Thomas. Ma non dura molto nemmeno lì. Si dice che avesse avuto dei gravi problemi di tipo psicologico e emotivo e quindi avesse deciso di ritirarsi. Ma in realtà, secondo alcuni sociologi, il vero motivo del suo ritiro avrebbe a che fare con un'altra presunta relazione con uno studente di questo istituto. Insomma, gli piaceva molto usare gli strumenti musicali dei suoi studenti. Ok, torniamo seri. Nel 1900... Nel 1971 Marshall inizia a gestire una salumeria nel Nuovo Messico. Ma lo stesso anno accade una cosa che lo avrebbe cambiato per sempre. Nel 1971, appunto, suo padre muore. E lui fa davvero fatica ad accettarlo. Era molto vicino a suo padre e la notizia della sua morte semplicemente lo devastò. Subì quindi un forte impatto emotivo e pare che da quel momento sia caduto in una brutta depressione. E qui, ragazzi, vi dico che le fonti riportano cose totalmente diverse. Non so quindi quale di queste sia vera, ma è bene che veredica tutte perché è importante per capire la storia anche se adesso non sembra. Comunque qualcuno dice che Marshall è finito in un breve periodo in un ospedale psichiatrico e dentro questo ospedale psichiatrico ha conosciuto una certa Bonnie Nettles. Lo stesso Marshall, però, diceva di averla conosciuta mentre era in ospedale a fare visita a un suo amico. Ma la sorella dell'uomo ha qualcosa di diverso da dire. Dice alla CNN che in quel periodo Marshall viveva a Houston e aveva avuto alcuni problemi di cuore. Si era quindi recato all'ospedale normale, non psichiatrico, proprio per questo problema. A quanto pare lì ebbe un'esperienza di premorte. E una delle infermiere lo aveva convinto del fatto che era successo per un motivo molto, molto importante. Per questo lo avrebbe potuto presentare ad un gruppo che lei conosceva. Questa infermiera era proprio Bonnie Nettles. Ma chi è questa Bonnie Nettles? Bonnie nasce nel 1927, anche lei nel Texas, e nasce in una famiglia cristiana battista. Mentre cresce e decide di intraprendere il percorso di infermiera, riesce nel suo intento e lo diventa a tutti gli effetti. Nel 1949 sposa un businessman di successo di nome Joseph Siegel Nettles e con lui ha quattro figli. Il loro matrimonio sembra andar bene, tutto normale, tutto perfetto. Questo almeno per un po' di anni. Si dice infatti che nel 72 le cose tra i coniugi iniziano ad andare decisamente male e tutto per via di un inquietante lato di Bonnie. Da qualche tempo la donna credeva di sentire una voce nella sua testa. Diceva che fosse un monaco del XIX secolo. Un monaco che chiamava Brother Francis. A quanto pare questo monaco le parlava, le dava indicazioni su cosa fare e le aiutava a prendere decisioni anche importanti. E la donna lo ascoltava. Prendeva molto seriamente le parole di Brother Francis. In quello stesso periodo Bonnie aveva iniziato ad interessarsi anche alle sedute spiritiche. Era in contatto con dei medium e periodicamente si vedeva con loro per praticare queste sedute. Voleva connettersi con gli spiriti e parlare con i morti. E sebbene all'inizio fosse solo una sorta di hobby, con il tempo diventò una vera e propria ossessione. Diventò la sua intera personalità. Non faceva altro che parlare di spiriti e creature ultraterrene. Pensate che in un documentario una delle sue figlie ha raccontato che quando era adolescente spesso andava in giardino con Bonnie, sua madre. Ci andavano per osservare le stelle, ma in realtà la donna parlava di come volesse che gli alieni le rapissero e le portassero con loro. Diceva alla figlia di guardare bene in cielo perché dovevano assolutamente accorgersi se passava un UFO. Per lei sarebbe stata la conferma definitiva del fatto che le creature ultraterrene fossero vere. Questo però non spaventava sua figlia. Anzi, proprio lei ha raccontato che amava passare quelle serate a guardare il cielo con sua madre. La giovane però non si era accorta che la passione di Bonnie stava diventando una vera e propria ossessione. Infatti ad un certo punto l'aspetto esoterico e paranormale prende il sopravvento. E Joseph, suo marito, non ce la fa più a sopportare Bonnie. È diventata strana, sembra pazza e non fa altro che parlare di spiriti, costellazioni e alieni. Insomma, si arriva ad un punto in cui i due convivono ma l'attenzione si respira proprio. Sempre nel 1972, Bonnie fa varie sedute con vari veggenti, sensitivi, chi più ne ha più ne metta. Uno di questi le dice con assoluta certezza che avrebbe incontrato un uomo alto, con capelli chiari e di carnagione chiara. E una volta incontrato sarebbe dovuta andare con lui ad ogni costo. Le dice che era come destinata a stare accanto ad una persona così e l'avrebbe incontrata presto. Quindi Bonnie da quel momento inizia a stare estremamente attenta ad ogni uomo alto con capelli e pelle chiara, perché credeva ciecamente a ciò che il veggente le aveva detto. Un giorno quindi va a lavoro e in ospedale. E in quello stesso ospedale, indovinate un po' chi c'è? Marshall. Come vi ho detto prima non siamo certi sul perché fosse lì, ma a fatto sta che si trovava nello stesso ospedale in cui lavorava Bonnie. Quando lei lo vede rimane quasi scioccata. Cioè Marshall era proprio come la descrizione che le aveva fatto il veggente. Quindi si convince subito che deve essere lui. Va da lui e gli fa una lettura astrologica che sinceramente non avevo mai sentito prima. Comunque tramite questa lettura vede che i loro astri erano allineati in qualche modo e questo allineamento perfetto significava che erano destinati a stare insieme. Scusate ragazzi ma non sono in grado di spiegarvi perché e per come. Questo è quanto. Quindi dopo la lettura diciamo che si conoscono e da subito sentono come di essere connessi spiritualmente. Percepiscono che si sono incontrati per un motivo. Un motivo molto, molto importante. Marshall addirittura crede che questa connessione sia così forte perché le loro anime si erano già incontrate in una vita passata. Quindi tra i due inizia a nascere una vera e propria relazione. Lei era ancora sposata ma le stelle stavano dicendo chiaramente che doveva essere con Marshall in qualche modo. Quindi il giorno di capodanno del 73 i due lasciano l'ospedale insieme e partono. Bonnie abbandona i suoi figli praticamente e li lascia con il padre e tre di loro erano ancora minorenni a quel punto. Ma comunque per lei è giusto così ed è pronta finalmente a cominciare una nuova vita insieme a Marshall. E anche lui è assolutamente convinto di abbandonare tutto e tutti e partire con Bonnie. Insieme sentivano come se potessero fare tutto. Sentivano di poter creare qualcosa di grande, di inarrivabile. Qualcosa che sarebbe andato oltre la concezione umana. Non sto esagerando. Bonnie gli disse che il loro incontro le era stato predetto dagli extraterrestri e convince Marshall di avere una sorta di incarico divino. Decidono quindi che tra i due Bonnie sarebbe stata la mente mentre Marshall la voce. Se vi ricordate veniva descritto come un uomo carismatico, con una personalità magnetica. Per lui quel ruolo sarebbe stato perfetto. Decidono anche di crearsi dei nuovi nomi e scelgono di chiamarsi Bo e Pip. Bo era Bonnie e Pip e Marshall. Fatto questo appunto partono e fanno un lunghissimo viaggio di ben sei mesi con nessuna destinazione specifica. Finiscono logicamente per girare un po' tutti gli Stati Uniti. E il motivo di questo viaggio era semplice. Dovevano conoscersi. Mettere su un piano. Far sì che il legame che sentivano prendesse forma in qualcosa di concreto. Ah, tenete presente che la loro relazione era totalmente spirituale e mai sensuale. Quindi in viaggio parlano del loro credo, del senso della vita, di cosa c'è dopo la morte e cose così. Sono d'accordo su tutto l'uno con l'altra e vogliono quindi diffondere il loro messaggio. In quel periodo studiano il Nuovo Testamento, vari libri religiosi, ma anche qualche libro di fantascienza. E finiscono per unire le due cose in un unico credo. Sono convinti a questo punto di avere una missione divina. Una missione che vi spiegherò bene tra poco perché ragazzi è assurda. Nel 75 decidono di fare una sorta di presentazione di quello che avevano preparato. Avevano fondato un gruppo che al momento era composto solo da loro due e si chiamava Human Individual Metamorphosis, in italiano metamorfosi umana e individuale. Quindi vanno a San Francisco e iniziano a distribuire dei volantini per partecipare a questa presentazione. Sui volantini c'era scritto che sarebbe stata una sorta di mix tra teorie del complotto, fantascienza e religione e sembrava come fosse un modulo di reclutamento o una cosa del genere. Guardate, questo è quello che c'era scritto. Subito in alto la scritta UFO cattura l'attenzione e c'è scritto UFO nell'area di San Francisco. Perché sono qui? Per chi sono arrivati? Quando atterreranno? Continuo e cito. Due individui dicono di essere stati inviati qui dal livello oltre l'uomo e torneranno in quel livello su una navicella spaziale nei prossimi mesi. Quest'uomo e donna discuteranno di come avviene la transizione dal livello umano al livello successivo e quando deve essere fatta. Questo non è un gruppo religioso o filosofico che cerca membri. Tuttavia, ha già spinto un numero di individui a dedicare la loro totale energia al processo di transizione. Se hai mai preso in considerazione l'idea che ci possa essere un livello reale e fisico nello spazio, oltre i limiti di questa terra, vorrai partecipare a questo incontro. Ecco, queste frasi che possono sembrare deliranti sono solo l'inizio. Ma che cosa vogliono dire? In poche parole, Bonnie e Marshall girano un po' e spiegano alla gente quello che vogliono dire. Ritengono in questo momento che un UFO sarebbe arrivato presto. Avrebbe poi salvato i membri del nuovo culto e li avrebbe elevati in un nuovo mondo. Un mondo migliore, oltre il corpo umano e oltre la terra. Questo processo i due lo chiamano TELA, che sarebbe l'acronimo di The Evolutionary Level Above Human, ovvero il livello evolutivo sopra l'uomo. Ecco, fatte queste premesse potreste pensare che nessuno o quasi nessuno si sia presentato a questi eventi. Invece, con mia grande sorpresa, che non dovrei sorprendermi perché siamo negli Stati Uniti, si dice che in uno di questi incontri parteciparono circa 200 persone. Di tutta questa gente, però, ovviamente, non tutti rimasero fedeli al gruppo. Alla fine erano solo presentazioni. Solo una piccola percentuale delle persone che partecipavano decidevano poi di seguirli e entrare nel gruppo. E quelli che entravano a farne parte effettivamente dovevano dimostrare una certa fedeltà a Bonnie e Marshall. Dovevano lasciare le loro case, abbandonare la famiglia, gli amici e vendere tutti i beni immondani. Il ricavato e in generale tutti i loro soldi andavano al gruppo. E grazie a questo potevano permettersi di viaggiare tutti insieme e mantenersi. C'è più o meno. All'inizio di tutto questo, gli adepti non hanno una sede fissa e vivono in estrema povertà. Ma loro non importa, hanno solo bisogno di un posto dove dormire e un po' di cibo. Per il resto va bene tutto. In quel momento i membri credono che sia ragionevole fare tutti questi sacrifici. Credono davvero a ciò che dicono Bonnie e Marshall. Perciò la povertà è il minimo pur di seguirli. Per loro gli alieni stavano per tornare sulla terra e li avrebbero salvati. Avrebbero permesso a tutti i membri di vivere felici e sereni in questa sorta di livello oltre l'umano. Immagino quindi che molti dei membri avessero qualche sorta di problema in questa vita o che in generale non fossero felici. Quindi questa promessa di elevazione per loro era davvero una salvezza. Qualcosa che vedevano come concreto, realizzabile. In fondo qualsiasi cosa sarebbe stata meglio che vivere una vita infelice sulla terra. Ma queste ragazze sono solo mie supposizioni, non sappiamo quale fosse la condizione di queste persone. Quindi proseguiamo con gli eventi. Il culto inizia ad essere conosciuto come una sorta di cristianesimo aggiornato, moderno. E un bel po' di persone sembrano apprezzarlo. Riescono a vedersi perfettamente dentro questa nuova dottrina. Specialmente le persone che si fanno domande del tipo qual è il significato della vita, perché siamo qui e cose così. Bonnie e Marshall danno una risposta a tutto e sono molto convincenti. Nonostante alcune assurdità che dicono, per questo le persone iniziano a trovare un conforto, una risposta in loro. Sono molto carismatici e attraggono le persone come una calamita. Una caratteristica che in effetti possiamo notare in tantissimi altri casi di strani culti. Comunque per farvi un altro esempio, i due dicevano che la Vergine Maria non era stata messa incinta dallo Spirito Santo. Era stata invece portata su una navicella spaziale e messa incinta dagli alieni. Sembra davvero assurdo credere ad una cosa del genere. Ma molti trovavano questa spiegazione più plausibile rispetto al fatto che fosse vergine e così per magia fosse rimasta incinta. Ma torniamo a parlare degli adepti. Queste persone, oltre a vendere tutto e dare tutti i loro averi al culto, dovevano anche purificare il loro corpo. Dovevano sbarazzarsi dell'influenza negativa e impura di cose come il fast food, i soldi e i pensieri sessuali. Durante questa purificazione erano costretti a bere solo e soltanto un mix di limonata, pepe di cayenne e sciroppo d'acero. Il processo durava tre mesi ed era come una sorta di rito di iniziazione, perché passato quel tempo a purificarsi, le persone potevano diventare finalmente membri ufficiali. Come vi dicevo prima, Bonnie e Marshall avevano spiegato ai loro seguaci che sarebbe arrivata la navicella e li avrebbe portati con loro. E una volta sopra la navicella, gli alieni avrebbero dato loro un nuovo corpo fisico con cui vivere una nuova vita ultraterrena. Ma dopo un po' i leader cambiano idea. Dicono quindi che il corpo che abbiamo è solo un container, un guscio marcio nel quale vive la nostra anima. Quindi per raggiungere la navicella devono lasciare questo guscio e lasciare che l'anima la raggiunga. Quindi prima sarebbero andati sulla navicella fisicamente e ora invece solo spiritualmente. Ma come? Qualcuno di voi sicuramente l'ha già capito. È un modo grottesco a cui arriveremo tra pochissimo. Il culto, come detto prima, guadagnava grazie ai soldi degli adepti. Perciò più membri riusciva ad avere e più soldi faceva. Dopo un po' di tempo quindi riuscirono a permettersi di affittare varie case per periodi di tempo più o meno lunghi. Ed è in queste case che iniziano ad accadere cose strane, sospette. I membri del culto, che in quel momento sono circa 40, iniziano a coprire ogni finestra in ogni casa in cui vanno a vivere. E Bonnie e Marshall cominciano a chiamare gli adepti equipaggio. Come se fossero parte dell'equipaggio di una navicella. A loro non è assolutamente permesso di parlare del culto con qualcuno al di fuori del culto stesso. Durante questo periodo, a partire dal 75, la setta scompare totalmente dai radar e i media non riescono ad avere le loro informazioni. È un periodo in cui appunto viaggiano e si rinchiudono in queste case e intanto cercano nuovi adepti da aggiungere all'equipaggio. Questo è un momento cruciale in cui i due leader accrescono il loro seguito e la loro autorità, plasmando gradualmente le menti di ogni singolo membro. Pensate che una notte i due comunicano all'equipaggio che sarebbe finalmente arrivata una navicella a prenderli tutti quanti. Dicono quindi di andare tutti nel giardino e attendere pazientemente tutta la notte. E ovviamente ogni singolo membro lo fa. Vanno tutti fuori e attendono con speranza. Solo alle prime luci del mattino, Marshall e Bonnie vanno da loro e dicono una cosa del tipo, ah in realtà non sta arrivando nessuna navicella, questo era solo un test. Volevamo vedere se foste davvero fedeli. Tutto questo ragazzi era solo un modo per aumentare la devozione di queste persone e anche un modo per scoprire se ci fosse qualcuno di non devoto tra di loro. In realtà però questa vicenda fa capire ai due quanto controllo hanno sui loro seguaci. Capiscono che letteralmente ogni cosa che dicono di fare, questi la fanno. Quindi cominciano a condurre test del genere periodicamente e il risultato fu una sempre più crescente devozione verso i leader. Si dice che a questo punto i membri cercavano costantemente l'approvazione di Marshall. Ci provavano in tutti i modi, facevano di tutto per lui e per farsi piacere da lui. Stava diventando una situazione quasi competitiva e questa cosa a Marshall piaceva. Piaceva come? Nel 1980 il culto ha raggiunto il numero di ben 80 seguaci. Che se ci pensiamo sono davvero tante persone. Molti di loro lavorano con i computer, non ho capito bene come dato che siamo negli anni 80, comunque altri invece fanno i meccanici. Marshall e Bonnie nell'82 concedono ai loro seguaci di chiamare le proprie famiglie una sola volta, il che era una cosa totalmente vietata prima di allora. Ma volevano come rassicurare le famiglie, che erano logicamente preoccupate per la sparizione di queste persone. Ma questo non bastò per calmare le acque. Per cui nell'83 concedono addirittura di andare a trovare di persona le loro famiglie. Ma questa non era altro che una precisa missione. Sarebbero andati dalle famiglie il giorno della festa della mamma e avrebbero tutti detto di stare bene e di essere in un monastero in cui studiavano informatica. Allora l'intento era quello di calmare le famiglie e dimostrare loro che non si dovevano preoccupare. Tutti i seguaci erano nel monastero a studiare, lo volevano fare ed erano felici. Ovviamente non erano in nessun monastero, adesso lo sappiamo. Ma le famiglie in questo modo si placarono un po' perché anche se l'intera situazione era decisamente strana, non potevano fare nulla. Quel loro familiare aveva deciso di andarsene e stava bene così. Non avevano davvero nessun potere in merito. E' una di quelle situazioni in cui magari vuoi aiutare un membro della tua famiglia, ma se lui per primo non vuole farsi aiutare, non puoi effettivamente fare niente. Insomma, le famiglie dei seguaci si mettono l'anima in pace, ma non hanno idea di quello che presto sarebbe accaduto. Bonnie e Marshall erano leader in egual misura, solo che avevano compiti differenti. Lei era davvero la mente che organizzava tutto, scriveva tutto e dava un senso, secondo loro, alla dottrina. Mentre Marshall, carismatico eccetera, era proprio perfetto per esporre tutte le idee di Bonnie, per convincere le persone e per farsi amare. Capite che in un ambiente così si creano delle dinamiche di fiducia e potere davvero davvero pericolose. E a proposito di questo, sentite un po' che cosa succede. Nell'83, a Bonnie viene rimosso un occhio chirurgicamente per via di un brutto cancro. E il dottore, al tempo, le disse che ormai il cancro si stava espandendo, era andato in metastasi e stava per colpire tutto l'organismo. Quindi o provava a farsi curare o sarebbe morta al 100%, ma Bonnie crede solo che il dottore sia un ignorante. Lei è convinta di non poter morire. Insomma, si considera l'anima reincarnata di una qualche entità divina. Non poteva morire. Giusto? Quindi non si fa curare e alla fine il cancro peggiora. Come preannunciato dal dottore, nel 1985, Bonnie muore a causa della malattia. Questo evento è una vera e propria svolta per il culto. E in modo totalmente negativo. Marshall è rimasto solo ed è disperato. Aveva perso Bonnie, l'anima a cui era collegato in maniera inscindibile. Aveva bisogno di lei. Però trova una soluzione. Trova un modo per spiegare quello che è successo ai seguaci. Dice loro che il veicolo rotto di Bonnie era stato abbandonato, lasciato indietro. Lei era ascesa, era finalmente giunta alla navicella. Quando Marshall dice veicolo rotto, si riferisce al corpo fisico di Bonnie. Da quel momento quindi iniziano a vedere i corpi terreni davvero solo come una sorta di ostacolo. Un guscio o un veicolo dal quale dovevano liberarsi. Si convincono che il corpo possa essere abbandonato ad ogni momento, al fine di raggiungere la navicella. Il livello successivo. Quindi ecco, la visione della vita e del corpo in questo culto continuava a cambiare con il tempo. Continuava ad evolvere. Ma si avvicinava sempre di più a qualcosa di estremamente distruttivo. Nel corso degli anni, centinaia di persone si sono prima unite al gruppo e poi l'hanno lasciato. Perché comunque non eri tecnicamente obbligato a rimanere. Cioè, potevi andartene quando volevi. Solo che una volta all'interno facevano in modo che quella fosse la tua unica ragione di vita. Nei primi anni 90 il culto era tornato a soli 26 membri. Soli tra tantissime virgolette. Perché sono troppi. E ovviamente Marshall era distrutto. Voleva in tutti i modi tornare ad avere più adepti. Ricordate che era arrivato ad averne ben 80. Così intraprende tutta una serie di azioni col solo scopo di aumentare la sua notorietà. Nel maggio del 93 il gruppo cambia nome, scegliendo ora Total Overcomers Anonymous, che sarebbe tipo vincitori totali anonimi. Non ha molto senso, lo so. Comunque spendono circa 30.000 dollari per pubblicare un annuncio nel quale avvertivano il mondo di un'imminente catastrofe. Una sorta di giudizio divino catastrofico che sarebbe avvenuto a breve. L'unico modo di salvarsi, indovinate un po', era entrare a far parte del culto. Questo annuncio porta varie nuove aggiunte e nuovi membri, che era in effetti il suo solo scopo. Ma non contento, Marshall decide di puntare su una nuova tecnologia. Internet. Agli inizi degli anni 90, come sapete, internet era davvero agli albori. E i pochi siti web che esistevano appartenevano a grandi compagnie o attività del genere. I membri del culto però ora erano 39. E alcuni di loro erano in effetti in grado di costruire delle pagine web. Questo perché lavoravano nell'informatica e creavano siti web per qualche azienda. E quindi decidono di fare proprio questo. Un sito web dedicato totalmente al culto. Con l'intenzione di reclutare quante più persone possibili. È in questo periodo che Marshall inizia per la prima volta a prendere in considerazione l'idea del suicidio. Sarebbe stato un modo per raggiungere il loro tanto ambito livello successivo. Quello in effetti era l'obiettivo dell'intero culto, raggiungere il livello sopra l'uomo. Che sarebbe stata la liberazione, una vita ultraterrena perfetta. Quindi Marshall inizia a realizzare che per raggiungere ciò, in effetti avrebbero semplicemente potuto abbandonare i loro veicoli. Ovvero, togliersi la vita. Inizia quindi a introdurre questo pensiero anche ai suoi seguaci. Spiega loro che tutto ciò di umano che hanno, lo devono abbandonare se vogliono ascendere. Incluso il corpo umano. La reazione degli adepti è assolutamente pacata e comprensiva. Sono d'accordo con lui, come sempre. Da quel momento quindi il culto cambia di nuovo nome e assume quello con cui viene ricordato ancora oggi. Heaven's Gate. Le porte del paradiso. Dato che dovevano in tutti i modi liberarsi di qualsiasi cosa umana in loro, il gruppo inizia a sopprimere sempre di più ogni desiderio sessuale. Molti di loro addirittura optano per la castrazione chirurgica. Questo per evitare che pensieri impuri di stampo sessuale macchiassero la loro anima e gli impedissero di ascendere. Un ex membro del gruppo ha raccontato che Marshall non ha mai detto di castrarsi ai suoi seguaci. Sono stati loro a volerlo fare, solo per dimostrargli che erano leali e totalmente devoti a lui. Marshall credeva che la sessualità fosse uno degli elementi che più di tutti legava l'anima al corpo e avrebbe quindi ostacolato i loro tentativi in questa evoluzione. Quindi cosa fa? Preparatevi. Innanzitutto fa indossare vestiti simili a tutti i membri di Evansgate e fa anche fare a tutti lo stesso taglio di capelli, senza distinzione di sesso. In questo modo avrebbe rinforzato il fatto che il culto fosse non sessuale. Non so bene come spiegarvi. Nessuno dei membri aveva un sesso o una sessualità a quel punto. Erano diventati semplicemente anime che stavano cercando di staccarsi il più possibile dal corpo fisico. Non potevano assolutamente partecipare a nessuna attività di stampo sessuale e in realtà per loro era anche proibito fare pensieri sessuali. È ora l'ottobre del 1996. Con i soldi guadagnati creando siti per le aziende, il culto può permettersi di andare in affitto in questa enorme villa vicino a San Diego. Qui registrano due video in cui offrono agli spettatori un'ultimissima possibilità per salvarsi evacuando dalla terra. Li caricano sul loro sito web, che è questo qui. E tra l'altro è online ancora oggi, dovrebbe proprio essere il sito originale. Comunque dicono appunto che davvero questa è l'unica possibilità di salvarsi. Accadrà una sorta di giudizio divino distruttivo e per raggiungere la salvezza le persone devono assolutamente entrare a far parte di Evans Gate. Creano proprio un senso di urgenza, che però percepiscono solo loro. In quel periodo il culto è anche venuto a conoscenza di una cometa che sarebbe passata molto vicino alla terra, la cometa Hale-Bopp. Che sicuramente qualcuno di voi ricorda anche. Questa è stata la cometa più osservata nel ventesimo secolo e anche una delle più luminose per decenni. Se ne è parlato davvero tanto in quel periodo perché era una di quelle cose che capitano solo una volta nella vita. Era così luminosa e famosa che le persone davvero non vedevano l'ora di poterla osservare. Tutta questa foga fece credere a Marshall, e quindi a tutto Evans Gate, che la cometa Hale-Bopp fosse seguita da una navicella spaziale. E dentro quella navicella spaziale c'era proprio Bonnie. La loro tanto amata leader che aveva perso la vita stava tornando per loro. Iniziano a credere che la navicella avrebbe preso il loro spirito a bordo e le avrebbe portati su un altro pianeta. Marshall crede a questo punto che una cospirazione governativa stia cercando di nascondere la presenza di questa navicella che segue la cometa. Prova quindi a parlarne e fa mettere questa notizia addirittura sui giornali. Prova ad avvisare il mondo che la navicella sta arrivando e tenta di nuovo di persuadere le persone ad unirsi a Evans Gate. Il mondo sta finendo, venite con noi, salvatevi! E poi accade il motivo per cui siamo qui oggi a raccontare e ricordare questa storia. Nel marzo del 97, il culto si rinchiuse in quella villa gigante e registrò delle dichiarazioni da Dio. Molti di loro in queste dichiarazioni lo darono a Marshall. Dissero che questo era ciò che volevano fare e che non vedevano l'ora di ascendere. Ed erano felici, felici di essere così vicini alla liberazione. Anche Marshall registrò un suo messaggio da Dio. Sul web si possono trovare questi video e sono davvero agghiaccianti. Si può vedere come queste persone siano davvero serene e felici di fare quello che stanno per fare. E tutto ciò non ha senso, ma dimostra il potere che può avere un culto del genere sulla nostra psiche. Se YouTube me lo concede, vi inserisco adesso uno spezzone. Il piano era molto semplice. Tutti i membri di Heaven's Gate si sarebbero dovuti togliere la vita. Questo gli avrebbe permesso di ascendere fino alla navicella in cui c'era Bonnie ad aspettarli. E dovevano assolutamente farlo, perché la cometa stava arrivando. Non potevano perdere questa chance. Era una cosa da fare ora o mai più. O meglio, nel momento in cui la cometa sarebbe stata più vicina alla Terra. Prima di fare tutta questa cosa, però, andarono tutti quanti a fare un'ultima cena insieme. Andarono alla catena di ristoranti Marie Callender's e ordinarono tutti quanti le stesse identiche cose. Tè freddo, un'insalata, seguita da pasticcio di pollo e infine cheesecake con mirtilli per dessert. Il 22 marzo del 97 ebbe inizio il massacro. I membri assunsero barbiturici e alcol. Poi si sdraiarono tutti a pancia in su su dei letti o per terra. Prima di asalare l'ultimo respiro si misero anche una sorta di telo viola che copriva la parte superiore del corpo. Tutti indossavano una tuta nera e scarpe della Nike. Si crede che avessero questo outfit perché comprarono i vestiti in blocco e quindi spesero di meno. Anche se qualcuno ha teorizzato una correlazione tra la Nike e il culto. Il che è davvero molto molto improbabile. Infatti la stessa Nike ha smesso di produrre il modello di scarpe che indossavano. Ma comunque le morti avvennero nel corso di tre giorni. Tutti vennero aiutati da altri membri in questo percorso e Marshall fu uno degli ultimi quattro a morire. Tre seguaci infatti lo aiutarono a togliere la vita dopodiché si uccisero anche loro. La scena che lasciarono è raccapricciante. 39 persone tutte uguali morte su un materasso e coperte da un telo viola. Le autorità andarono a perquisire la villa solo dopo che qualcuno le chiamò dicendo che stava accadendo qualcosa di brutto lì dentro. Quindi il 26 marzo del 97 vanno lì e scoprono i 39 corpi. Era davvero una scena orrenda. E il fatto che la scena fosse così inquietante contribuì molto alla diffusione di tutta questa storia negli anni. 39 persone guidate da idee e credi surreali che dopo anni di lavaggio del cervello si sono convinte che quella fosse l'unica cosa da fare. E ragazzi questo caso è davvero particolare perché abbiamo le registrazioni video. Queste persone sembrano davvero convinte di voler porre fine alla loro vita. Sembra che siano genuinamente felici di farlo. E fa tanta paura perché dimostra il potere assurdo che alcune persone possono avere su di noi. Ragazzi vi ripeto anche oggi che se state passando un periodo difficile e vi capita l'occasione di entrare in una setta o un culto non fatelo. Non potete sapere a cosa andate incontro e il più delle volte una volta dentro è difficilissimo uscirne. Un po' come le relazioni abusive. Finché non ci siamo dentro non capiamo cosa si prova. Ma una volta dentro non riusciamo ad uscire. È davvero interessante e spaventusissimo allo stesso tempo. Questi culti possono essere davvero fatali. Una storia davvero particolare quella di oggi che ha giustamente sconvolto milioni di persone. E voi vi immaginavate che Marshall sarebbe arrivato a tanto? Secondo voi perché l'ha fatto? Era davvero convinto di quello che diceva? O forse nella sua mente stava accadendo anche qualcos'altro? Secondo me era davvero convinto ma al tempo stesso i motivi per cui si è tolto la vita e l'ha fatta togliere a tutti gli altri sono tanti e complessi. Qualcosa nella sua vita ha fatto sì che sviluppasse l'ossessione per gli alieni e per il non fare sesso. Quindi boh, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Secondo me era una vicenda davvero pesante. Ma questo è solo il secondo studio di massa più grande della storia. Quindi mi raccomando iscrivetevi perché prima o poi parleremo anche del primo. E oh mio dio se c'è da parlare. Io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Grazie!